Sono più di 200 i mascheroni che ornano le facciate di Palazzo Lascaris, volti grotteschi per lo più ma anche facci di satiri, figure di animali, busti che ritraggono imperatori e personaggi del passato, telamoni che sorreggono i piani alti, fanciulle che occhieggiano dall'alto, austeri condottieri e anche le statue di Adamo ed Eva. Il consiglio regionale del Piemonte che dal 1979 ha sede nel Palazzo Barocco nel centro di Torino, dedica un tascabile della sua collana a volti e busti di Palazzo Lascaris. Una piccola pubblicazione ricca di immagini che documenta la cura con cui sono state realizzate anche le facciate di un palazzo signorile del 600.